E' proprio qui immerso nella bellezza di Libri, tra le pagine profumate di racconti di vita di vissuto che sono emozionatissimo, sono veramente felice di darvi benvenuto per la prima tappa del tour di presentazione del mio manoscritto d'esordio sulle ali dell'arte che avrà luogo il 21 settembre ore 18 all'interno della prestigiosa rassegna Libri Vivi in Fortezza a Siena, nella città che porto nel cuore, la città dove sono cresciuto, la città da cui tutto ebbe inizio e come avrà inizio il tour di presentazione in giro per l'Italia del racconto, dell'esperienza del Bocciarelli Home Theater come resistere, sopravvivere ad una pandemia attraverso la bellezza della poesia, del teatro, dell'arte, la pittura a condurre l'evento ci sarà la meravigliosa Virginia Masoni e quindi le telecamere di Canale 3 Toscana e la partecipazione straordinaria del storico dell'arte Enrico Toti e poi ci sarete voi, vi voglio numerosissimi per rivivere e condividere insieme l'esperienza che è raccontata in queste pagine provate a immaginare un attore chiuso 65 giorni all'interno di una casa, da solo a Roma che cosa è accaduto? Ve lo racconterà sulle ali dell'arte venite eh, mi raccomando, vi aspetto numerosissimi Grazie a tutti